Cartier Tank Anglaise, un orologio di lusso dal design iconico. Nel 1917, lui Cartier decise di rompere gli schemi dell'epoca, che vedeva predominare orologi rotondi, e creò il primo prototipo del Tank. Questo orologio rettangolare era ispirato all'aspetto delle autoblindo, della Prima Guerra Mondiale, in particolare al Renault FT, considerato il primo carro armato moderno. Questo veicolo era caratterizzato da una torretta girevole e da gradini a cingoli che sporgevano dai lati dello scafo. Questi gradini avrebbero ispirato le branch card dell'orologio Tank, che fungono da anse per il cinturino. Il Tank è diventato uno dei segnatempo più iconici e ambiti al mondo, testimoniando la sua intramontabile eleganza e il suo design senza tempo. Il Cartier Tank Anglaise, si propone con una variante che riprenda la forza insita nel modello originale. I tratti si ridisegnano invece grazie ad un allineamento perfetto creato dall'inserimento della corona di carica all'interno della cassa. Il design innovativo prevede una forma con linee rafforzate e una cassa più ristretta rispetto alle altre collezioni. Tra i modelli più lussuosi troviamo sicuramente il Cartier Tank Anglaise referenza HPI 00560. Questo modello, più grande degli altri della collezione, si distingue per una raffinata cassa in oro rosa da 18 carati e ornata da ben 111 diamanti per un totale di 2,06 carati, la cassa è ennagonale, e il movimento dell'orologio è meccanico a carica automatica. Il quadrante anch'esso in oro rosa è adornato da 300 diamanti taglio brillante per un totale di 0,78 carati. Il bracciale invece realizzato con lo stesso oro rosa 18 carati, ha ben 518 diamanti taglio brillante applicati per un totale di 10,48 carati.